buongiorno a serenella salomoni.it buongiorno buongiorno serenella allora attenzione oggi oggi poi chi ci ascolterà in replica insomma dirà vabbè l'hanno già fatta ma oggi è il primo di ottobre ricorre la celebrazione della giornata internazionale delle persone anziane istituita dalle nazioni unite nel 1990 gli anziani noi abbiamo detto ma gli anziani fanno sesso come gli altri è un tabù il fatto di parlare del sesso dell'anziano ci sono sempre questi stereotipi questi luoghi comuni perché specialmente oggi che portato al massimo tu devi coprirti di quella che la tua personalità con i filtri lo vedi con le foto che puoi fare con le cose che puoi lanciare nei social dove non sei tu sei quello che vorresti essere diciamola così no perché puoi fare delle cose per cui in effetti non è più la tua persona quella che fai vedere ma è quello che tu vorresti essere questo perché perché il problema ci sono sempre più anziani però il problema dell'anziano è quello di farsi vedere più giovane di quello che è e c'è una specie di rifiuto della vecchiaia come se fosse una colpa ma più che guarda che no scusami no non mi fai incazzare adesso tu hai detto che il problema dell'anziano è farsi vedere più giovane di quello che è il problema anche di tanti altri non solo l'anziano io ho degli amici è un problema scusa è vero però dico che nella persona anziana ancora più ho visto gente anziana che piangeva in televisione dicendo sono anziano sono vecchio quindi la cosa importante siccome non è che possiamo cambiare siamo anziani punto è il fatto di rinunciare a quello che è il culto del corpo ma se non un culto del corpo che sta bene con il quale siamo bene che curiamo bene e poi il fatto della sessualità che non è più quella di una volta perché l'anziano logicamente ha dei problemi legati a realtà quindi anche la sessualità può essere qualcosa che ti aiuta molto perché è affettività e tenerezza e corpo e sentirsi bene anche col tuo corpo e dare felicità al corpo dell'altro però non pensare che debba essere tutto come era prima quindi le cose devono cambiare devono cambiare in bene per farci continuare una vecchiaia non soltanto piena di salute che quella sicuramente è la prima cosa ma anche piena di aspetto di relazioni e sensualità e quando quando mettete le foto sui social non le taroccate perché poi in giro si vede che siete anziani ok dai quando andate in giro si vede che siete anziani anche perché si vede tra l'altro anche se vede tra l'altro Grazie.